Arriviamo a 200 mi piace, bella, faccio 70 E con questa esaltazione di Joe a lasciare un bel mi piace che vi esorto anch'io a lasciare Volevo farvi sapere prima di iniziare il video che purtroppo l'audio del video è stato fottuto letteralmente Cioè il microfono è andato a puttane Quindi abbiamo dovuto utilizzare l'audio della telecamera È comunque un buon audio però non è a livello di questo che state sentendo Comunque era giusto per precisare per evitare commenti e per rispondere subito nel caso aveste questo quesito Detto ciò non vi rubo, oltre il re tempo anche perché c'è un raffreddore, sta morendo e vi lascio al video Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo con uno dei più grandi streamer Con un esperto di questo gioco, un... come ti definire? Un pro player Un pro player FnaticGio97, trovate su Twitch in descrizione Infatti questo video avrà un titolo di poco Video con lo streamer di Mario Kart Più forte in Italia, l'Europa Bravissima Prima che il video inizi scrivete nei commenti chi vincerà più spesso O lui o io Adesso Aziz, cazzo, no dovevi farlo Ah, adesso quindi io ho scoperto che devo prendere le monete, va bene, le prendiamo a sto punto Ho scoperto l'America Amerigo Francesi di merda domani mattina non ti svegli, lo giuro Aziz, ma tu sei Giovanni, ma siamo entrambi Giovanni, scusa Siamo entrambi Giovanni, ma siamo veramente entrambi Giovanni Perché anche tu ti chiami, ah no, tu ti chiami Claudio, giusto? Claudio Guaglioni Ti piacciono i migranti? No, 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 eh Va bene, va bene Va bene, è decimo No, è settimo seguito No, guarda Porco Allora, giocare col Gioicon così è davvero tipo giocare a pallone Tu, tu giochi col volantino? Col volantino? Si, il volante è tipo quello... Ma no, ma non sono mica l'autista del taxi Ho iniziato a giocare a questo, ho provato a... Ah! Ti vengo a prendere, ti giuro ti sta con il cielo, me lo mangio a colazione domani Che non era una buona cosa visto che c'è anche Bea a casa, non sarebbe proprio il massimo come quella zia No Cioè, palefo? Ah, sicuramente no Ah, quindi decimo, nono, io settimo e quinto, quindi... Adesso mi devo cambiare il setup Ah, tra l'altro, scusa, io non l'ho ancora fatto vedere il facecam Noi abbiamo qua il talismano che però non ci ha portato fortuna Tra l'altro, gli asci avrebbe delle ali, in teoria, però Delle alette Alette, la manina alette Fax, zio son second... Zio son... Zio son second... No! Oh, no, no Ma no, che arrivavo primo! Sì, ma è now, Jonathan, spirit, abba Quando lui perde Quando lui perde Ah, beh, ah, beh Comunque, su tre gare, non ho ancora... Sai che non ho? Del cazzo Penso che tu abbia ragione Adesso mi chiudo Sto concentrato fino alla fine Qua ci sarà un taglio e alla prima bestemmia che cacci, arrivi il dodicesimo È data Oh, come vuoi? Ogni volta provo a fare la scorciatroia e... Cos'è che vorrei fare, scusa? La scorciatroia La scorciatroia Ultimo No, no, l'undicesimo, zio Undicesimo, è che lo butti 200 cc sta a pista di merda Questa è il dodicesimo e il tredicesimo Non mi rubano le monete Cazzo Brucia, brucia! Oh, ma sappiamo che lo spirit, il cavallo pazzo... Primo A parte che è una tipa, secondo me, spirit Tipa o meno, glielo mettono nel culo No, fra... BELLO! Nooo! 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 Ma guarda il tempo, quanti strumenti hai? La serie dei diari Questo è... Che tu non lo sai, ma io... Cioè, tipo mi fa... Scutendo la serie dei diari, mi fa... C'è il mal di cola, c'è il mal di cola E io, lo stesso giorno, gli ho fatto la storia in cui mi spruzzavo l'autan ... E in bocca... Che avevo veramente il mal di cola Ma scusate, ma l'autan non è per le zanzare L'autan si è il dal 2 L'autan... Infatti dicevo, ma... Ma perché siete l'autan? Ma per le zanzare, è vero? PAM! Il cerchino più forte dell'America del Sud-Ovest Andiamo! Mi basta un guscio verde e donne! Mi metto tutte incinta Oh, bello zio, bello 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 Vieni qua Fidemi, puttana Nooo Passami pure bene Nooo Ti è andata bene Ti ho sprecato quel guscio verde Se no ti sniperavo da 700km Tenivano power a casa mia e mi cucinavano le lasagne Ma fra ma dov'è la pista? Ecco cosa mi manca Ecco perchè sto perdendo Ma guarda quanto era cazzo davanti spiriti cavallo frosso Esplode Mi esplode il motore Ha 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 Figgio di vera Figlio di? Vera e di Elisabetta Canalis Puttana Elisabetta stai guardando questo video Avessi voglia di fare uno speed date oppure voi ci becchiamo su Ma scorda Ci chiamiamo su discord Elisabetta Canalis Eh niente va bene S'è diventato un arrosto Prendilo! Nooo nooo adesso si porta a casa aaaaaah niente bello eh in questo video si chiamerà utilizzare i funghi sui muri tutorialita ok no 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 guscio guscio oddio si 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 Yoshi tira dritto non fare stronzate don't take the muro ok bella 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 quella giù china china vieni qua niente porco no si 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 no settimo addirittura manco quinto subito pianura ciambella 3 no la circuito di mario sasso carte forbici e una secca circuito di mario pianura ciambella no pari dispari dispari e boom e poi butti giù i numeri e boom 8 pari figli ma guarda ma hanno scelto ma culo dai ma dai ma è una gioia sta vita di merda eh niente Gilles MOM no 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 sta oddio quattro preso figlio di puttana di una b ma vaffanculo abbe minchiilia facciamo una cospirazione contro abet ti prego lo cominciamo a lanciare di gusci manco fosse temi in una tartaruga eh figlio di puttana di una B direi che abbiamo una faida contro ABE ok zio c'è davanti ABE ma nooo ma vaffanculo ce ne ho i gusci per stuprarlo ma dai ma ragazzi ma le talpe bro le talpe lancio il joystick aaaah sesto giochio ah grazie no lo so stato io no lo so stato io bro bene guerra dichiarata ma cazzo dai è stato il mare lì davanti il mare il cinese qua quello medico va bene ma scusami già adesso ti vedi tutto chiaro porco piccoli che ho detto dai dai cazzo quinto o secondo ma mai costa di essere andato secondo sto dato ah beh sesto che è potuto avere sesto beh direi che possiamo dopo questa vittoria direi che possiamo andarcene io spero dai 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 io spero che questo video vi sia piaciuto se possibile vi lasciate un like a passare dal twitch di gioco passate dal twitch che si trova in descrizione lasciate un commento un mi piace disiscrivetevi passate dal twitch un bacione arriviamo a 200 mi piace bella ne faccio 70 domani ragazzi mi hai messo yoshiro wow frost 26 frost 26 frost 26 cioè tu pensa che uno deve ma porco di ciao fabio sei in diretta ciao 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 ciao